Buonasera, come sta la piccola Amy? Ah, lei! Aveva solo bisogno di una mano e la sua bugia gliel'ha data. Non era proprio una bugia, non ho detto tutta la verità. Ah, non lo so, proprio non lo so, è su un uomo apparecchio acustico, come l'abbia avuto, ne dove, ma davvero grazie di voi. Ringrazio l'assistenza infantile. Sì, beh, così... Così, vogliamo andare a cena? Eh, la porto io, ok? Solo dobbiamo fare in fretta, hanno orari precisi. Anche con me, lasciamo lavorare le donne. Venga, venga. Chi programma è? Ah, non lo so. Anche la mia famiglia è stata educata cattolicamente. Venga. Vesce come era da volta con la santa donna di mio madre. E non soltanto mia madre, mi dirò. Avevamo quattro fratelli, tutti maschi. Io gli sono una offertina di più. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Lo sapevo che era cattolico. Ha studiato per diventare prete. E ha dovuto rinunciarci quando morì suo padre. Per mantenere la madre malaticcia. Vivono tutti nella stessa casa. Una famiglia. Se fosse andato alla Notre Dame, forse l'avrebbero fatto santo.